È la degna sede e anche il titolo di questo convegno di due giorni ha motivo di esprimere quel momento particolare, ma anche la personalità particolare che Salvatore Rosa rappresenta. Caterina Volpi, assieme a tutti coloro che si sono accostati a Rosa e alle questioni che Rosa pone, perché Salvatore Rosa è un pittore difficile. Non nel senso che sia difficile da apprezzare perché naturalmente, anzi possiamo dire, ha un credito notevole soprattutto negli ultimi decenni, un Salvatore Rosa è miticamente indicato come uno degli autori che sul mercato possono suscitare interesse. Ma è un pittore difficile nel senso che è una personalità complessa che come tante altre sono state lette in modo semplificato. E quindi è fargli onore provare a articolare la riflessione su di lui tenendo conto di tutte le sfaccettature di una persona, di un personaggio notoriamente versatile, ma sul quale si sono dette in passato delle cose molto abbreviate. D'altra parte non è l'unica vittima di questa comunicazione semplificata. Allora io mi permetto di fare un breve prologo a un convegno che si presenta molto ricco e denso, non solo per i nomi autorevoli che coinvolge, ma anche per i temi che sono stati proposti. E vorrei soltanto porre delle domande in partenza, sperando poi che le risposte che sono state in parte già date possono essere chiarificate nel corso dei lavori, non solo per Salvatore Rosa, ma per tutto un modo di fare storia dell'arte. la faccio grossa, ma il tema è grosso. Non sono io a farla grossa, penso che invece merita un approccio scientifico aggiornato, come si suol dire, o quantomeno articolato, una questione relativa alle grandi personalità del Seicento. E il rapporto tra Roma e Napoli in questo mi sembra nodale. Faccio un esempio leggendo gli atti di un convegno, negli atti di un convegno un bel saggio di Francesco Petrucci su Mola, che mi ha molto divertito perché dice delle cose che condivido pienamente. Il povero Mola era stato presentato come pittore del dissenso anticlericale, antireligioso, eccetera, eccetera. Con forse qualche motivo, perché naturalmente Mola era un personaggio bizzarro, non come Rosa, però tra l'altro erano amici e poi si muove su un versante nord-sud, centro-sud, comunque anche nord, molto variegato. Bene, Petrucci mette in evidenza qualcosa. Il pittore del Cardinal Nepote non poteva essere un anticlericale, perché il Cardinal Nepote l'avrebbe frullato dalla finestra in cinque minuti. Solo per dire, lo dico in modo molto abbreviato, senza dare un tono troppo accademico all'affermazione, per dire anche che certe affermazioni si smontano con la semplice evidenza dei fatti. Era il pittore ufficiale di un momento particolare del pontificato romano e quindi, tra l'altro, la sua ironia e questo modo anche, se vogliamo, critico o ironico nei confronti dell'ufficialità anche religiosa, era un elemento determinante e costante nel mondo culturale del tempo. Le caricature non sono segno di avversione, fanno parte di un sistema. Quindi dobbiamo prendere distanza da quest'idea bianco-nero, pro e contro. Perché è un modo vecchio di fare storia dell'arte che non tiene conto della storia. Ho detto queste cose, mi sono permesso di fronte a un autorevole uditorio come questo, di ricordare delle cose che, pur essendo molto superate, continuano a permanere qua e là, con delle tracce ormai un po' datate di approccio che io ritengo poco scientifico rispetto all'avanzamento degli studi. E allora l'esempio che ho fatto su Mola è significativo. Figuriamoci, Mola è un pittore critico, è un pittore bizzarro, eccentrico e Salerno fece bene a pensare, a concepire quell'idea dei pittori del dissenso. Fu un volano per cercare di capire un periodo, ma noi non possiamo restare bloccati, ancorati a quello che Salerno disse qualche decennio fa. Perché il lavoro di Salerno è stato più che pregevole, ma Luigi Salerno è stato più che pregevole, ma oggi le cose vanno viste in un altro contesto e in un altro modo. Seconda osservazione, sarò rapido, perché già vedo delle facce preoccupate. Per partire a Monte, naturalmente le più grandi semplificazioni sono state fatte su Caravaggio, perché naturalmente è come il padre di tutta questa filiera, non perché Mola o Rosa fossero Caravaggeschi, a di queste personalità potenti e centri che hanno avuto un peso decisivo, non a caso poi tra Roma e Napoli. Vorrei presentare un caso molto interessante di lettura semplificata del passato, questa volta non dettata dal pregiudizio o dall'ideologia, ma dettata dalla mancanza di elementi documentari e di riferimento relativi alla cronologia. Ed è una premessa a tutto questo rapporto Roma-Napoli che nel fine del Cinquecento si va rafforzando, pensiamo al cantiere della Certosa e di San Martino, dove confluisce un bel gruppo di romani, pensate al cavaliere d'Arpino e non cito gli altri per non dilungarmi, ma di come l'apporto romano diventa molto importante. E poi pensiamo al rapporto con Belisario-Corenzio, ma non è questo il punto sul quale vorrei soffermarmi. Scipione Pulzona da Gaeta, personaggio fondamentale nel rapporto tra Roma e il Sud nel secondo Cinquecento e non solo, naturalmente, ha lasciato a Napoli una pala d'altare molto importante che purtroppo è stata sfigurata da un restauro maldestro. Il martirio di San Giovanni Evangelista per la chiesa di San Domenico Maggiore, seconda cappella a sinistra, entrando. Che cosa c'entra con Caravaggio questo dipinto? C'entra, e ora lo spiegherò brevemente, per il fatto che Federico Zeri, il grande Federico Zeri, dalle intuizioni folgoranti, capì che Scipione Pulzone poteva essere stata una fonte di ispirazione per il Caravaggio. Se, Caterina, vediamo la prossima slide. Il manigoldo o carnefice, come vogliamo chiamarlo, in basso sul martirio di San Giovanni Evangelista, così chinato, con i piedi nudi in faccia allo spettatore, attenzione la pala del Caravaggio, il quadro del Caravaggio non è una pala d'altare, è un laterale. Scipione Pulzone aveva già messo su una pala d'altare in primo piano, in faccia allo spettatore, due bei piedoni, nudi, per di più rivolti al pubblico. Zeri aveva capito che questa pala poteva aver dato qualche suggestione o stimolo al Caravaggio per il quadro di Santa Maria del Popolo. Infatti dice, Zeri ammette che Caravaggio può aver avuto qualche ispirazione, però naturalmente non si spiega come mai. Il quadro era Napoli e allora si riteneva che il quadro fosse realizzato negli anni Ottanta, cosa che poi è stata confermata, ribadita più volte, eccetera, eccetera, attorno all'Ottantaquattro, perché Pulzone era sceso a Gaeta e a Napoli in quel momento. Quindi Caravaggio avrebbe visto questo quadro quando? Visto che noi sappiamo dei documenti e non abbiamo altra prova di una discesa del maestro milanese nella città partenopea se non alla fine del 6. E come poteva conoscere quest'opera? Una copia, un bozzetto, tante ipotesi. E non si spiegava, infatti Zeri aveva lasciato tutto in sospeso, però cogliendo un fatto. Zeri tace una cosa però, non tace riguardo a questo quadro, ma tace il fatto che c'era qualcuno, c'era stato qualcuno che nel 1923 aveva fatto un saggio nel quale aveva spiegato molto bene che Scipione Pulzone era stata fonte di ispirazione per il Caravaggio. Herman Foss l'aveva detto diffusamente, ma naturalmente Zeri non cita la fonte che poi gli aveva suggerito questo abbinamento, ma non importa. Quindi c'era stata una comprensione, e ricostruisco queste cose per arrivare al punto, c'era stata una comprensione, Zeri coglie questa cosa, la sottolinea, però c'è un enigma. Caravaggio è stato a Napoli prima del 1606? Adesso col fatto che si pensa che il Caravaggio possa essere stabilito a Roma più tardi, non entro nella discussione perché se no si aprono le polemiche, comunque c'è uno spazio secondo il quale Caravaggio può aver girato più per l'Italia e anche forse fuori, e quindi potrebbe essere stato a Napoli, invece la storia va completamente girata, perché questo quadro, come ha dimostrato Dora Catalano, non è stato fatto a Napoli, ma è stato fatto a Roma. Infatti, ed è molto interessante, e la mostra su Pulsone, poi il convegno che si è svolto su Pulsone dopo la mostra alla Sapienza, adesso usciranno gli atti, Dora Catalano, attraverso delle ricerche, durate anni, perché è stata molto complessa la ricostruzione della vicenda della Cappella Caraffa, ha evidenziato un fatto molto importante nel rapporto Roma-Napoli, cioè che la Cappella Caraffa, Antonio Caraffa, cardinale, che è stato bibliotecario, prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, grecista, patrologo, persona di erudizione straordinaria, oltretutto vittima, egli di tutta la damnazio memoria dell'esilio che i Caraffa subirono, anche in parte ingiustamente, dopo la morte del prozio Paolo IV, eccetera, eccetera, questo personaggio molto sofferto volle edificare una cappella, decorare una cappella in San Domenico Maggiore, secondo lo stile romano. E tra l'altro è Martino Longhi il progettista. Viene fuori dai documenti che la cappella non è stata realizzata a Napoli, ma persino i marmi sono stati lavorati a Roma e poi montati nella capitale partenopea, nella capitale del regno di Napoli. E la cosa interessante è che lo stile classico introdotto a Napoli è una novità, è un'anticipazione di quello che verrà dopo. Un napoletano che inserisce nella sua città la cultura romana di fine 500, con la scelta tra l'altro di Scipione e Pulsone, probabilmente legata a una serie di motivi, non ultimo il fatto che uno dei suoi esecutori testamentari sia il cardinal Caetani che è amico e sostenitore di Scipione e Pulsone. Bene, la cappella è stata iniziata dopo il 1592. Antonio Caraffa muore nel 91, ma lascia delle norme testamentarie molto ben precise, lasciando in eredità i suoi beni alla congregazione dei maroniti, i quali debbono vendere una villa che si trova a Grotta Ferrata, la villa viene venduta nel 92, dicembre 92, quindi dal 93 hanno a disposizione i fondi per realizzare la cappella i cui marmi sono lavorati a Roma. Un altro documento trovato dal catalano indica la cappella fatta dal cardinal Antonio Caraffa nel 1595. E allora questo spiega, in realtà la cappella fatta tra il 93 e il 95, ma è chiaro che la pala non può essere commissionata a Pulsone prima del 93 se non ci sono le misure precise dell'altare in cui deve essere collocata. Anzi, come dice Dora Catalano, la pala probabilmente è stata fatta verso il 95 e nel 95 Caravaggio può averla vista a Roma. Era molto consueto l'uso di esporre un'opera prima della sua partenza. Ecco spiegato una questione elementare che però chiarisce il rapporto Roma-Napoli di Caravaggio e di Pulsone. È paradossale perché un pittore regnicolo come Pulsone è diventato romano, viene considerato tale dal suo committente napoletano che vuole sia introdotta nella sua città una cultura dal punto di vista architettonico e dello stile pittorico tipicamente romano anche per cambiare, per un'inversione di tendenza che vuole imprimere anche dopo la sua morte ciò che avviene. Peccato che la pala è stata sfigurata dal restauro, era molto, se vediamo un attimo quella precedente, era molto rovinata perché la foto prima del restauro è molto significativa ed è impressionante anche la descrizione che era stata fatta dal Dei Dominici con grande accuratezza. Si elogia lo stile veristico, questa riproduzione della realtà, poi sappiamo molto bene anche da Baglione e da Borghini come Pulsone fosse elogiato per la capacità di resa, diremmo, potattile dei tessuti, degli oggetti, di un rapporto con l'immagine il più possibile aderente alla realtà. Bene, e se noi vediamo la slide successiva, è chiaro che l'osservazione di Zeri corrisponde a un motivo di ispirazione che naturalmente viene trasformato completamente, c'è un salto di qualità, non voglio dire, tra l'altro sono state datate due laterali della Cappella Cerasi ormai a quattro, non prima, in base ai documenti che la Tantillo Mignosi ha evidenziato, quindi siamo alla distanza di una decina d'anni. Ma ecco allora come Pulsone invia a Napoli un'opera che sarà molto importante, anche se poi ne abbiamo perso il peso e la rilevanza, ma è chiaro che invece il Caravaggio l'abbia potuta vedere a Roma nel 1995 per trarre motivo di ispirazione per qualcosa che farà dopo, perché l'idea che si imiti un quadro nel momento in cui esce è anche questa, una semplificazione, perché le opere naturalmente viste, se suggestionano, possano essere stato oggetto di riflessione. Tra l'altro, lo dico per inciso, ci sarà chi non condivide quest'idea, il Caravaggio può aver fatto uno schizzo, un abbozzo, anche se indubbiamente aveva una memoria straordinaria, quindi poteva aver impresso nella sua memoria questa immagine per poi rielaborarla in forma del tutto diversa. Ciò non toglie nulla a Caravaggio, perché Caravaggio non copia Pulsone, ma evidentemente, vediamo l'ultima, così concludo, che Caravaggio abbia tenuto conto di Pulsone è indubitabile anche del grande ritrattista. Ed è quindi soltanto uno spunto per dire come i percorsi sotterranei vadano fatti riaffiorare. Nella storia dell'arte ci sono dei percorsi carsici, non solo per ciò che riguarda la critica d'arte e quindi l'approccio critico nello studio, nell'analisi dei problemi e delle questioni, ma ci sono problemi carsici che vanno individuati e che vanno fatti riemergere, altrimenti se si vede solo in superficie si rischia di cadere in quelle semplificazioni di cui parlavo. Vi ringrazio. Chiedo scusa se sono partito da molto lontano. D'altra parte, le premesse di quello che si dirà oggi hanno radici tardo-cinquecentesche e proto-cinquecentesche che sono fondamentali. Chiamo volentieri Nicola Spinosa, che è il primo dei relatori di oggi e sul quale non oso dire nulla, non solo perché lo conosciamo, ne conosciamo le virtù, ne conosciamo gli scritti e oltretutto dare a lui la parola all'inizio di questo convegno è dare la parola a Napoli, città che egli non solo conosce ma che ha tutelato, conservato, perché non è solo Capodimonte, non è stato solo Capodimonte il regno di Nicola, possiamo dirlo, perché la reggia di Capodimonte è stata un po' la sede da cui si è diramata la sua molteplice iniziativa. Quindi lo ringrazio di essere qui e Nicola Spinosa ci parlerà di Artemisia Gentileschi e dintorni tra mostre fatte e da rifare. Grazie Nicola.